Allora, buongiorno ragazzi Oggi tratteremo velocemente quello che è un altro format televisivo di cui stavamo analizzando, abbiamo già analizzato altri tre format televisivi ossia dei prodotti nati apposta per la televisione e tra i prodotti nati apposta per la televisione abbiamo quella che è definita la fiction seriale TV è un prodotto che nasce già con l'inizio del cinema dovete pensare solo che io in questa lezione vi darò anche, diciamo, parla in generale della fiction ok? e delle sue caratteristiche però poi sotto a questa pagina che vi metterò in link ci sono delle letture, se volete, diciamo, approfondire quelle che sono le tematiche per quanto riguarda la fiction in America e la fiction in Italia io vi darò, mentre parlo e mentre spiego, degli spunti, dei flashback veloci su quella che è stato lo sviluppo della fiction in Italia anche ok? dovete pensare che, diciamo, nel 54 già il panorama è questo in Italia ora riprenderò il discorso però nel 54 in Italia la gente, diciamo, nel 54 siamo... l'Italia è uscita dalla guerra già da qualche anno e il sistema di istruzione era abbastanza colpito perché, ad esempio vi faccio un esempio proprio semplice mia nonna a quell'epoca non poteva più andare a scuola quindi mia nonna non ha neanche finito la quinta elementare è stata ritirata prima per andare in campagna ad aiutare il padre ok? quindi tutte le figlie andavano in campagna ma non è solo la storia di mia nonna questa è la storia della maggior parte dei nonni che a volte non hanno neanche finito la scuola elementare questo che cosa vuol dire? vuol dire che c'era un alto livello di analfabetizzazione in tutta l'Italia e questo livello diciamo con la nascita già della radio ma poi della televisione l'idea era quella di voler diciamo acculturare la gente e rendere il servizio radio televisivo un servizio anche educativo oltre che di intrattenimento è di informazione informazione ce l'abbiamo attraverso i notiziari l'intrattenimento attraverso i giochi programmi vedi come la fiction però il ruolo anche che rivestiva la televisione in questo caso ricordatevelo bene è quello di anche educare quindi ripeto molti prodotti che sono che si hanno avuto all'inizio della televisione avevano un'impronta spiccatamente educativa perché si partì con il teleteatro è dal teleteatro che era praticamente tenete conto che nel 54 la televisione non esistevano i registratori ok? i nastri magnetici non esistevano non si poteva registrare era tutto in pellicola e le trasmissioni televisive all'epoca andavano solo in diretta proprio all'inizio quindi si iniziò con il teleteatro che era tutto in diretta se volete ripeto andatevi a leggere le dispense in più io non posso approfondire anche questo discorso come ho detto all'altra classe se volete farò una lezione a parte dopo il teleteatro che era in diretta iniziò ad arrivare in Italia lo sceneggiato che era la trasposizione della sceneggiatura dei romanzi dei romanzi ottocenteschi ok? quindi di romanzi famosi dell'ottocento faccio un esempio Dostoievski oppure piccole donne oppure altri racconti dell'ottocento erano trasposti in sceneggiato e mandati in onda a puntate e questo serviva per acculturare l'Italia che stava veramente alle pezze per quanto riguardava l'educazione adesso riprendiamo il nostro discorso aperta questa parentesi breve sull'Italia riprendiamo il discorso quindi abbiamo detto che la fiction televisiva serale è un prodotto che nasce in maniera specifica per la televisione è chiaramente diverso vedere una fiction e guardare un film che cosa abbiamo di diverso un film diciamo sappiamo sappiamo cioè un film ci può piacere o meno sappiamo non sappiamo come andrà perché è la prima volta che lo vediamo e quindi abbiamo delle aspettative nei confronti del film facciamo delle previsioni ad esempio qua dice facciamo previsioni fondate su pochi dati mentre per quanto riguarda una fiction la fiction funziona così cioè è basata sulla serialità quindi sulla ripetitività e che cosa si ripete? si ripetono una serie di punti fondamentalmente si ripete quelli che sono questi valori di certezze che ti dà la fiction innanzitutto come dicevo ieri è il format il format che cos'è? un formato facciamo un esempio CSI CSI nasce con non so io ricordo CSI Miami magari mi sbaglio però voi prendetela per buona c'è un caso diciamo l'episodio nasce ci presentano un caso una persona una donna eccetera eccetera qualcuno muore ok muore qualcuno a quel punto siccome il caso è particolarmente interessante non viene coinvolta la polizia normale ma viene chiamato direttamente il reparto di CSI che arriva sul posto il reparto è sempre lo stesso cioè ci sono sempre gli stessi personaggi una volta che arrivano sul posto iniziano a suddividersi i ruoli per capire come indagare quindi ognuno nel reparto ha i propri ruoli e compiti le proprie specificità e il proprio carattere tenete conto che poi questi caratteri o questi modi di essere si intrecciano tra di loro e comunque sia vengono portate avanti le indagini le indagini portano a un punto di svolta che può essere vero o falso diciamo può crearci l'illusione di aver capito la strada in realtà magari non era proprio supponiamo durante le indagini esce fuori l'aspetto scientifico perché c'è stato il rilievo scientifico del tipo poi c'è l'aspetto relazionale cioè uno dei poliziotti è andato a fare le interviste alle persone per prendere informazioni supponiamo che in tutto questo verso la fine mentre raccolgono dati e fanno ipotesi verso la fine supponiamo che una delle poliziotte sia andata a casa di un sospettato magari non è un sospettato è un'amica di famiglia per chiedere un'informazione questa signora o signore quello che è rapisce la poliziotta quindi la stordisce e la rapisce ok quindi secondo voi come andrà a finire andrà a finire che cercheranno di trovare di supporre i colleghi di supporre dove sia che cosa faccia o se la tipa può riuscire a mandare un segnale per avvisarli quindi loro arrivano questo è tutto il climax che sale no sta salendo la nostra curva di emotiva di tensione ve lo ricordate come in un film per arrivare al culmine dove praticamente salvano la tipa scoprono che è stata la signora che nessuno si aspettava ma alla fine tutto viene ricollegato a questa signora e quindi la puntata si risolve ci siamo ci siamo ti ho perso almeno una persona grazie Carol gentilissima no almeno una persona no ci siamo disattiviamo l'audio perché poi no ok ok almeno una persona che mi dà un feedback perché ripeto mi sembra di parlare eh chiaramente raggiungi raggiungi una persona sola diciamo quella che fa meno chiasso io Paolo tu sei zitto ok va bene allora capito l'esempio che vi ho fatto si si ok poi diciamo quindi che cosa fa la fiction la serialità è portatrice di certezze possiamo decidere se ci è piaciuto o no una puntata un episodio mentre il film magari continuare a guardarlo magari il film ci è piaciuto oppure no finisce là e stop che cosa abbiamo quindi quali sono i successi di il successo le ragioni del successo e vi ricordo ragazzi che qua sempre in questo testo lo dovete prendere come struttura ok questo è già un diciamo un paragrafo un capitolo del nostro lavoro per chi farà la fiction ok abbiamo le ragioni del successo quindi nel caso della puntata appunto agisce la nostra curiosità nel caso dell'episodio il piacere rassicurante della ripetizione poi abbiamo un altro meccanismo nel pubblico scatta l'immedesimazione dei personaggi o negli ambientazioni questo processo appunto è favorito dagli autori che popolano le fiction seriali di personaggi di varie estrazioni etnie e dominanti psicologiche cosa vuol dire ve lo spiego brevemente vuol dire che se voi se noi prendiamo una fiction chi conosce ad esempio Do Son Creek no io no ditemi una fiction per ragazzi cioè una teen serious per ragazzi cioè che avete visto da ragazzini ah tipo chi siamo Zaccheco di Antara quelle che sono picchi un buco io va bene io non lo vedevo però vedevo Do Son Do Son Creek ogni tanto lo vedevo vabbè Do Son Do Son Creek eccolo qua ok allora ah si ok tipo quella immagini allora vedete qua ah si l'ho vista l'ho vista ok allora qua abbiamo dei tipi diversi innanzitutto abbiamo i tipi devono essere diversi per esteriorità e interiorità che vuol dire vuol dire che devono avere delle dominanti psicologiche le dominanti psicologiche solitamente sono se mi dovesse riferire alla alla divisione junghiana introverso estroverso ok con diciamo delle allora abbiamo Do Son è fondamentalmente un ragazzo che è biondo innanzitutto quindi possiamo definirlo un bel ragazzo muscoloso ok che ci tiene al suo fisico sportivo ha il capello medio lungo biondo non ha gli occhi particolarmente blu almeno così non lo ricordo e la questione è che lui è un po' introverso cioè lui è un po' romantico è introverso e anche un po' insicuro ok poi abbiamo non ricordo come si chiama lei però la bionda loro stavano insieme era una coppia lei diciamo era un po' più vi ricordo che questa è una fiction per ragazzi quindi si chiama teen series cioè serie per teen per ragazzi ok quindi chiaramente ci sono le storie d'amore o le storie di cose che succedono storie di vita prese in esame diciamo il carattere della biondina era il carattere di una ragazza un po' più spensierata va da un certo punto di vista pure magari dal punto di vista relativamente va sessuale era un po' più indottrinata spinta in avanti rispetto a Dawson che era il timidone della situazione anche no poi abbiamo e quindi lui un po' un po' non dico introverso ok però un po' più introverso ed emotivo lei un po' più dinamica con alcune problematiche sue bionda un po' più libera diciamo a livello delle dinamiche della percezione del sé a livello sessuale in quel senso l'amica del cuore l'amora amica del cuore di Dawson aveva accesso a casa sua liberamente entrava dalla finestra però amici del cuore lui comunque si è interessato a lei ok seppur ama la bionda o amava piano piano la storia andrà verso di lei lei attualmente è la moglie di qualcuno non mi ricordo di chi se non mi sbaglio di Brad Pitt probabile Jennifer Aniston è stata la prima moglie di Brad Pitt e poi si è sposato con questa se non mi sbaglio questo è gossip ma a me il gossip non interessa comunque quello che ci interessa è capire biondo bruna lei amica del cuore problemi problemi familiari dinamiche piano piano si avvicinano pesi invece questo il Bruno quindi qua abbiamo vedete abbiamo caratteri diversi già proprio sia psicologicamente diciamo sia a livello esteriore che interiore no lui più spontaneo più pazzerello figlio di un poliziotto si mette nei guai quindi il contrasto con la figura del padre perché il padre è un poliziotto mentre lui non è il figlio di un poliziotto che però diciamo rispetto a Dawson è l'amico del cuore di Dawson il suo confidente però diciamo è quello che ha un aspetto più impulsivo ok mentre Dawson è più moderato quindi vedete che prendiamo ho preso questi tanto per spiegarvi ma se prendo CSI CSI Miami prendiamo Miami i personaggi io mo non li ricordo mo c'è questo io c'era questo personaggio che ricordo comunque prendiamo questi io mo non vi voglio dire fesserie però il comandante ok questo è il comandante il capo della squadra poi abbiamo la bionda determinata che non so con chi avrà la relazione addirittura abbiamo quello che si occupa di cose scientifiche dovrebbe essere il nerd della situazione ed è lui se non mi sbaglio faccio conto che sia lui però solitamente c'è sempre uno che gestisce gli aspetti più tecnici c'è un nerd sempre quello che si occupa dei tecnicismi ok poi abbiamo questo che è un alter ego del capo ok non so fra chi si instaurerà la relazione fra il moro e la bionda poi abbiamo addirittura abbiamo addirittura una una donna mulatta in questo caso nera perché perché in realtà l'Italia in Italia l'America comunque sia è multiculturale e quindi io devo esprimere anche siccome devo creare immedesimazione nel pubblico metto nel programma degli elementi in questo caso è una donna una bella donna eccetera eccetera accurata si vede che però è una donna di colore e fa un po' da rappresentanza anche di quella che è la popolazione di colore è un po' come lo stesso discorso che vi ho fatto per quanto riguardava il pubblico ve lo ricordate? io vi ho detto che il pubblico fa da rappresentante cioè il pubblico in realtà rappresenta il pubblico che sta a casa cioè vuole simulare la presenza del pubblico che sta a casa giusto? sì grazie ho messo a mia madre con l'aspirapol ah vabbè allora ho detto a Paolo eh sì infatti ho detto a Paolo però non l'ha letto ok magari se si mette caro chi altro qualcuno va bene vedete pure come sono raffigurati questo è raffigurato c'ha la pistola qua questo è il tecnico che fa le foto ad esempio che si occupa dei rilievi abbiamo la bionda dallo sguardo di ghiaccio ok più determinata ma anche con i suoi silenzi e le sue cose da nascondere ad esempio no? cioè i fatti privati ci siamo? vado avanti un altro meccanismo che scatta è quello di legarsi sentimentalmente a uno o più personaggi che cosa vuol dire questo? in realtà supponiamo che a Paolo piacciono le bionde ok? mentre a Tommaso piacciono le brune e quindi chiaramente vedere quello che si chiama in realtà sono stereotipi ricordatevi questo si usano questi stereotipi nel cinema e nella televisione che comunque sia funzionano perché comunque sia non sarebbero stereotipi in questo caso si usano perché ci sono lo stereotipo della bionda fredda ok? con dove sta? la bionda fredda quindi magari a Paolo piacciono le bionde con un carattere deciso e quindi Paolo può eventualmente non è una può eventualmente scattare un un sentimento di di piacere nell'osservare quella persona quell'attore in azione ok? nel cinema tutto questo finisce mentre nella niente Paolo ti piacciono le bionde ho ipotizzato ok? vabbè perché Sabrina è bionda giusto proprio per quello vabbè ragazzi anch'io sono biondo anch'io sono biondo andiamo avanti ti voglio bene Paolo ti voglio bene anche io vi voglio bene a tutti mentre dicevamo mentre nel film finisce nella fiction siccome noi la rivediamo sappiamo che quel personaggio ad esempio possiamo diciamo osservare meglio quello che è il carattere di un personaggio perché si protrarrà nelle puntate no? e poi un altro aspetto importante anche se qua da LSEP in realtà è una D è l'appuntamento fisso che è rassicurante produce familiarità con l'ambiente con le ambientazioni con con la trama stessa che vi ho detto e con la struttura della trama ok? è rassicurante sapere che la trama comunque sia si svolgerà così e il gioco è più semplice per noi perché dobbiamo fare ipotesi però le ipotesi non le facciamo come in un film cioè nel film tu fai delle ipotesi giusto? però in realtà il film non le hai mai visto quindi non sai come andrà mentre in una fiction tu una volta che impari a capire come funziona fai delle ipotesi che ti aspetti che magari se parla con quello si ti avvicini alla realtà ma in realtà quell'interrogatorio non porterà niente perché se no finisce la fiction giusto? finisce la puntata dopo dieci minuti invece no sappiamo che la struttura ci porterà ad avere un'illusione di qualcuno deve sentirsi in pericolo ci deve essere il momento culminante no? questo è comunque sia crea familiarità perché noi ci aspettiamo che la struttura funzioni così un po' come quello che vi ho raccontato giusto? ok allora le origini le origini della fiction sono queste arrivano dal foglietton il foglietton era un genere letterario ottocentesco che aveva un carattere molto popolare ha origini in Francia ma era sviluppato in tutta Europa anche perché poi gli scrittori ad esempio vi faccio un esempio Edgar Allan Poe lo conoscete? Edgar Allan Poe era uno scrittore di horror diciamo horror va? di romanzi horror oh spaventosi paurosi eccetera eccetera beh questo poverino siccome non riusciva a vendere i propri romanzi almeno riusciva a vendere le proprie storie romanzate in appendice l'appendice è la parte finale la penultima e ultima pagina del giornale e quindi lui vendeva le sue storie i suoi romanzi appuntate per questi giornali ok? vi erano varie storie voglio dire Edgar Allan Poe era uno degli scrittori ma le storie erano di ogni genere c'erano storie di avventura e quindi di inseguimenti storie di vendette amori uccisioni tradimenti insomma c'era un po' di tutto questo va a finire in quello che noi chiamiamo generi ok? se io vi parlo avete mai sentito parlare degli Harmony? i romanzi Harmony? no se andate in se andate in al giornalaio se andate al giornalaio a volte se girate attorno al giornalaio vedrete delle storie dei libri sono dei piccoli libri che hanno più o meno tutti la stessa grafica hanno dei toni rosa e sono i romanzi Harmony sono delle storie i romanzi Harmony erano questi sono delle storie nate per essere lette in maniera molto leggera che parlano di storie d'amore di tradimenti eccetera eccetera ci sono quelli vedi il signore del cuore il segreto di Sara la musica dell'anima sono recita d'amore sono un po' ci avete presente quei film che fanno il pomeriggio della estate che sono storie d'amore tutte a lieto fine però dove c'è un tradimento dove c'è qualcuno che si innamora di un altro sono storie d'amore leggere con varie trame e questi sono fiction sono praticamente sono storie una diversa dall'altra a sé stanti il prezzo della passione questi erano gli Harmony e un po' questi sono venivano suddivisi le storie venivano suddivise nei foglietton un po' tipo questi non sto dicendo che siano questi ok poi dal foglietton si passa verso la fine dell'ottocento a un genere di narrativa diverso che era appunto questo è in Italia in Italia si ha l'avvio di quello che viene chiamato romanzo d'appendice che è sempre la stessa cosa il romanzo d'appendice si trova alla fine è un po' come il foglietton ok vediamo qua ah spesso scritti da donne per un pubblico prevalentemente femminile e ve l'avevo anticipato sono i romanzi d'appendice erano storie intricate a sfondo amoroso ve l'ho appena detto ve l'ho appena detto diciamo sono gli antecedenti degli armoni ok solo che venivano pubblicati alla fine del giornale a puntate quindi tu eri si chiama fidelizzazione questa eri interessato a sapere come andava a finire la storia quindi una volta che se tuo marito si comprava il giornale tu poi aspettavi la donna aspettava di prendersi quella che leggeva il romanzo si andava a prendere il giornale del marito per finirsi di leggere la storia ok e quindi dire poi chiacchiere con le amiche ci siamo no vedi anche lo dice qua solo in seguito vennero diffusi in forma classica di libro ok tenete conto che però anche la diciamo tutto questo discorso della serialità è stato anche poi trasposto tramite il fumetto tenete conto che anche il fumetto è un prodotto seriale e nasce appunto alla fine dell'ottocento ci sono vari tipi di storie e venivano pubblicati settimanalmente o mensilmente ma negli inserti dei giornali tipo noi in Italia avevamo come si chiama un giornale per ragazzini ma mi sfugge mi è venuto ieri ma adesso mi sfugge il giornalino il giornalino il giornali no vediamo se lo troviamo o alla fine del giornalino o di questi diciamo giornali riviste per ragazzi c'erano sempre delle storie a fumetti alla fine o anche dentro vedete il giornalino le storie a fumetti ci siamo vado avanti anche nel cinema diciamo si era sviluppato quella che era la fiction voi dovete sapere che in realtà forse ve l'ho detto sicuramente l'anno scorso quando abbiamo parlato dei primi filmati quelli di Edison a partire successivamente da Edison e i fratelli no una cosa solamente noi alle 10 abbiamo la videochiamata con inglese e lo so però io che devo fare ragazzi voi alle nove e mezza vi siete presentati no io alle nove ciao comunque non è il suo orario alla fine poi ha avvisato cioè no aspetta non è il suo orario ti dovreste avere noi all'ultima la Simone dovremmo avere adesso però la Simone non dà la settimana prossima e vabbè però ragazzi io fatemi finire la lezione prof anche perché 10 minuti fa ci hai avvisato eh no no non si fa scusatemi io stiamo prendendo un discorso io sto registrando però avvisate la professoressa che deve fare le cose in orario non non se voi non avete in cioè noi voi mi avete fatto iniziare tardi eh cioè se no io la prossima volta inizio chi c'è c'è chi non c'è non c'è però poi eh avvisatela e dite di che che avete iniziato tardi la lezione che comunque sia non è il suo orario e che le fate un piacere ma non voglio fare tutto sto discorso però noi facciamo molto per fare le cose in orario cioè almeno io personalmente non è giusto che uno si sveglie e dica beh adesso facciamo lezione cioè non mi sembra opportuno scusate eh comunque eh non può farmelo pure ieri e insomma ragazzi io continuo a fare lezione e voi mandate un messaggio alla professoressa e dite che fate venti minuti di ritardo cioè ritardo da niente perché in realtà eh non avevate lezione con la docente e quindi mi prendo io un quarto d'ora posso? con chi parlo? ok cerco di andare avanti velocemente di finire eh allora facciamo così anche nel cinema si sviluppa la serialità la serialità si sviluppa appunto nei film i film inizialmente erano di vi ricordate vi avevo detto che erano venduti a pezzi i film e anche nel cinema si era sviluppata l'idea di creare delle fiction un po' perché i film duravano eh quanto la pellicola all'epoca durava massimo 15 minuti quindi quando si andava al Nickelodeon si pagava uno spettacolo uno spettacolo corrispondeva a 15 minuti quindi eh c'erano storie eh tipo mandreco storie di di avventura che venivano vendute appunto a puntate ok e guarda caso se vi volete ricordare questo ogni puntata finiva di queste storie più avventurose finiva con il personaggio spesso in crisi eh appeso a un dirupo o a un precipizio come volete questo questo espediente si chiama Cliff Anger Cliff è il dirupo Anger vuol dire appeso quindi vuol dire letteralmente appeso sospeso su un precipizio che peraltro questo è un film di stallone però l'immagine è proprio quella di stallone appeso a un dirupo ma questo è un espediente che si usa ancora ad oggi eh chi vede chi vede eh un posto al sole no io no vabbè in un posto al sole o solitamente nelle fiction eh succede questo che la puntata si conclude in un momento di culmine in un momento in cui supponiamo si ha una notizia particolare però finisce con la notizia non non ci viene detto quale sarà la risoluzione di questa notizia ok è un po' la stessa tecnica anche se non il personaggio non è appeso al dirupo ma siamo noi appesi al sapere come andrà a finire quella notizia che è importante ok se il tipo eh verrà arrestato oppure no se la persona eh se è stata lei a uccidere o qualsiasi altra cosa ok questo serve per fidelizzare sempre i personaggi ricordatevelo e eh spingerli a vedere la puntata seguente il giorno dopo ci siamo anche nella radio si è sviluppata quello che viene chiamato sop opera sop viene dal termine sapone opera quindi sono opere radiofoniche storie radiofoniche che venivano spesso pubblicizzate ehm i cui testimonial non testimonial i cui sponsor erano delle ahm delle case produttrici di sapone questo poi si è spostato anche in televisione nella fiction degli anni 40 e 50 in America quando vedete tutte quelle belle immagini patinate dal sapore un po' dai colori un po' eh pastello ehm e arrivarono questi tipo di di sop opera oltre che radio anche in televisione in America negli anni 50 eh 50 eh sì negli anni 50 in Italia si sviluppa anche un genere nella fiction chiamato ehm ehm il fotoromanzo il fotoromanzo è sempre un prodotto seriale però sono fotografie a mo' di fumetto e questo è stato anche un diciamo un prodotto molto importante vedete qua c'è un'immagine andiamo subito a vedere quali sono i formati della serialità eh innanzitutto dobbiamo dividere fra ehm fra episodi e puntate allora il la differenza è questa che fondamentalmente le puntate hanno una successione cronologica nel tempo ok un posto al sole a puntate beautiful a puntate qualsiasi cosa che eh non è autoconclusiva ma ha un legame con tutta la storia ok mentre gli episodi sono autoconclusivi quindi dobbiamo a questo punto potete già capire cosa è episodi e cosa è appuntate ehm i simpson sono episodi perché abbiamo succede un evento si sviluppa e finisce nella diciamo nell'episodio stesso si ha la conclusione dell'evento la volta successiva noi vedremo un nuovo episodio ok dagli anni 80 succede questo mentre l'episodio volevo dirvi anche un'altra cosa rimane aperto scusate la puntata rimane aperta rimane aperta agli sviluppi successivi cioè non sappiamo se come in beautiful il marito di lei si sposa con con un'altra con la figlia del fratello in beautiful era proprio un mix di tutto l'episodio rimane sempre appunto chiuso dagli anni 80 invece si assiste alla fusione un po' fra quelli che sono le puntate e gli episodi perché in realtà si sviluppano quelle che si chiamano le trame le sottotrame che vi faccio un esempio se la trama è capire gli alieni da dove arrivano e che cosa hanno fatto ok la sottotrama ha tipo una stagione in questo caso la stagione vuol dire un blocco di puntati o di episodi che vanno per un anno ok in quella stagione supponiamo il tema gli alieni legati a un determinato setta ok oppure in una fiction di omicidi come c'era ad esempio una italiana tutti gli omicidi di quella stagione il tema erano erano legati a omicidi legati ad una setta quindi in realtà tu vedevi l'episodio ma in realtà c'era uno una trama che li legava a questa setta e poi ci sono le sottotrame e le sottotrame sono quelle relazioni che si vengono a instaurare tra i personaggi stessi quindi il capo che ha la famiglia l'aiutante bionda che si innamora del Bruno e quindi iniziano ad avere una specie di relazione che in realtà non possono avere perché non si possono far vedere ma c'è del diciamo del simpatico tra di loro e allora che succede? succede che abbiamo battute queste battute servono a sollevare quello che viene anche definito così abbiamo una divisione fondamentale che è in due categorie quella che è la drama e quella che è la comedy questo modo non fa che unire i due generi che sono il genere drammatico tipo gli omicidi e il genere comico fondendoli insieme creando quello che viene chiamato adesso il dramedi ok? dove appunto abbiamo eventi drammatici quindi omicidi ma delle sottotrame che creano comunque aspetti simpatici piccole battute che rendono meno pesante diciamo lo sviluppo drammatico della storia sono sottotrame che legano i personaggi tra di loro ok? detto questo andiamo alla divisione in serie che appunto è divisa in episodi e serial suddiviso in puntate come vi ho detto tra i più famosi vabbè Staschi e Hatch ma voi ne sono usciti così tanti che un solo mi permetto di citare una mini serie diciamo che aveva 13 puntate era Twin Peaks che ha avuto moltissimo successo e che ha diciamo ha dato un input alla creazione di fiction in maniera diversa in Italia come vi avevo detto avevamo lo sceneggiato tratto da romanzi importanti prima ancora il teleromanzo ma poi appunto gli adattamenti dai romanzi letterari dell'ottocento come l'ho sceneggiato abbiamo un'altra divisione che è quella delle serie a più puntate con un grandissimo numero di puntate che vengono chiamate le continuous serial appunto abbiamo le miniserie poche puntate c'era Perlaska anni fa erano due puntate prodotto italiano se non mi sbaglio anche dalla Rai due puntate quella è una miniserie poi abbiamo serie che vanno a stagioni e serie che in realtà sono continuano all'infinito tipo beautiful un posto al sole queste sono le continuous serial fanno parte appunto ne fanno parte appunto le soppopera come vengono chiamate in in America o le telenovelas perché hanno il nome latino in questo caso vediamo questo ve l'ho già detto ci sono le serie serializzate dove appunto c'è una fusione fra iniziano come come episodi ma poi si sviluppano in puntate perché vengono create le sottotrame i generi quali sono vi ho già parlato del commedia e del dramma ma si fondono poi insieme diventando dramedi e questo ve l'ho già detto che è questo pezzo e poi abbiamo quelli che sono proprio i generi della fiction l'avventura il mistero il fantasy quelli di illegal drama il medical drama come iari polis drama ma ce ne sono tantissimi qua è citato i science fiction i supernatural drama i teen drama come Dawson Creek quelli tipo western come vedete adesso ce ne sono addirittura adesso ci sono le case di produzione i paesi fondamentali sono america paesi latini l'italia in minima parte e magari voi non lo sapete la germania è una grossa produttrice di polizieschi su rai 2 fa distretto hamburg se non mi sbaglio e vedete che è una produzione grossa perché comunque sia ci sono salti di macchine esplosioni è girata come fosse un film a volte la fiction poliziesca tedesca quindi diciamo sono particolarmente specializzati in questo mentre ci sono anche fiction di origine nordica anche loro sono legate molto al poliziesco quelli di origine nordica Danimarca Svezia anche perché alle origini del cinema il poliziesco si è sviluppato per le prime per le prime volte in Norvegia voi magari non lo sapete ma ve lo sto dicendo io quindi i paesi di origine sono parecchi però voglio citarvi anche il Giappone perché non dovete scordarvi che anche il Giappone produce produce fiction e le sue fiction sono appunto in parte anche i cartoni animati ok non solo però abbiamo avuto già dagli anni 80 un grosso arrivo per conto delle televisioni private innanzitutto quelle che sono tutti i prodotti di fiction animate e quindi i cartoni animati quindi i paesi sono questi c'è anche l'Australia che è una grossa produttrice di fiction e poi adesso un po' il sistema mondiale è cambiato sicuramente in India si producono delle fiction che però noi non vedremo non vediamo fondamentalmente rimane l'America il più grosso produttore anche adesso se vogliamo parlare dei grossi produttori di fiction quali la Stars che era una grossa produttrice ma ormai abbiamo Netflix che produce molte fiction insieme anche ad Amazon e ad altre grosse major in questo tipo io bene o male ho finito se voi volete farvi darvi una lettura specifica per quello che riguarda la fiction negli USA se vi va è da leggere se vi va potete anche darvi una specifica su quello che è la fiction seriale in Italia di cui vi ho dato degli spunti ma chiaramente c'è da dire altro parlare dei più famosi registi però bene o male lo sviluppo è stato quello io ho concluso insomma se volete potete continuare con le vostre lezioni io vi ringrazio e vi saluto chiudo qua la registrazione buona giornata a tutti va bene buongiorno 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 buongiorno